Agitava con violenza un coltello a scatto una bottiglia rotta, minacciando le vittime di consegnare il denaro in loro possesso. In un'occasione non ha esitato di colpire una delle vittime procurandole una ferita da taglio ad una mano. È il presunto rapinatore seriale del centro storico di Salerno, l'uomo arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Salerno principale, coordinati dal comandante interrinale della compagnia di Salerno, il Graziano Maddalena. Si tratta di un 43enne BM Le Iniziali, pregiudicato di Salerno, residente nel centro storico, responsabile di quattro rapine, tentate, consumate, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. L'arresto è stato eseguito in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall'ufficio GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalle indagini svolte dai carabinieri e pienamente condivise dall'autorità giudiziaria a seguito delle rapine perpetrate dal pregiudicato salernitano di 43 anni, tre nella giornata del 17 maggio ed una il 6 giugno ai danni di quattro cittadini extracomunitari. In tutti gli episodi che si sono verificati per le vie del centro storico di Salerno, il rapinatore, identificato proprio come un residente del posto, minacciava le vittime di consegnargli soldi ma il loro rifiuto cominciava con violenza a spaventare afferrando un coltello a scatto o una bottiglia rotta. In diverse occasioni le vittime hanno anche opposto resistenza, sfociate poi in colluttazioni. In un caso un extracomunitario è stato ferito ad una mano. L'arrestato espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.